Solo insieme possiamo affrontare le sfide di oggi, nessuno si è lasciato indietro. Lo ha affermato il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nella sua introduzione alla seconda giornata di lavori dell'Assemblea CEI, aperta ieri in Vaticano con Papa Francesco. Campi flegrei, 150 scosse nella notte, panico tra i residenti, 40 famiglie sgomberate a Pozzuoli, chiuse per precauzione, le scuole polemiche per i cantieri e il traffico nelle vie di fuga, riunione in prefettura. Cinema con la 77esima edizione del Festival di Cannes è il giorno di Paolo Sorrentino ed è l'omaggio di Christophe Onoré al mito di Marcello Mastroianni. Edizione di Mezzogiorno, ben trovati dalla redazione giornalistica del TG2000, in apertura la 79esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Lo sguardo sulla salute del Paese che desta preoccupazione occorre rafforzare la solidarietà gettando ponti che superano ogni muro, ha sottolineato il Cardinale Matteo Zuppi. Andiamo subito in diretta con Nicola Ferrante. Buongiorno Nicola, ci aggiorni sull'introduzione di questa mattina. A te. Sì, buongiorno dall'Aula Paolo VI in Vaticano. Viviamo in una babele, così la definita, il Cardinale segnata da tanta sofferenza e da troppe ombre di guerra che non si fermano e paralizzano nella paura. Il Cardinale ha esortato la Chiesa in Italia a ricostruire perciò il senso di fraternità. A questo proposito ha richiamato la preghiera di ieri sera per la pace e poi anche la vicinanza alla Terra Santa. Ma la Chiesa italiana sarà anche vicina all'Ucraina, ha spiegato il porporato. In estate sette chiese locali diocesane in Italia hanno aperto le porte dando la disponibilità di accogliere 700 bambini dall'Ucraina per dare un po' di serenità. Poi dal Cardinale Zuppi l'incoraggiamento è incidere nella cultura di questo tempo. Dobbiamo chiederci, ha detto, se non pecchiamo di una certa mancanza di fantasia creativa in ambito culturale. Infine lo sguardo sulla realtà italiana, sulla povertà. Cita i dati Istat legati alla povertà. 5 milioni di persone in povertà assoluta, altri 13 milioni a rischio povertà. Sentiamo allora le parole del Cardinale su questo e poi torniamo in diretta dal Vaticano. Sentiamo il passaggio. Nello stato di salute del Paese d'esta particolare preoccupazione. È sempre più difficile uscire dall'abisso dell'indigenza. Si rafforzano le povertà croniche e quelle intermittenti relative ai nuclei familiari che oscillano tra il dentro e il fuori dalla condizione di bisogno. Si rafforza inoltre il divario generazionale. I giovani sono sempre più esposti a difficoltà economiche. E aumenta il vuoto creato da coloro che tendono ad allontanarsi dalla partecipazione politica e dal volontariato. È necessario promuovere azioni solidali e definire con urgenza soluzioni inclusive e realmente incisive in grado di rafforzare il senso di comunità, di reciproca cura, dall'inizio alla fine della vita ovviamente, affinché nessuno sia tagliato fuori o venga lasciato indietro. E lo vedete, lo vedete, mi ha raggiunto Monsignor Francesco Savino, Vice Presidente CEI per il Sud Italia. Buongiorno Eccellenza, lavori intensi. Allora, dopo l'abbraccio del Papa di ieri e ancora oggi lavori di gruppo, il focus, abbiamo detto, sulla povertà in particolare. Buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutti, telespettatori e telespettatrici. Un bel pomeriggio ieri, un bel dialogo con il Papa Francesco su tante questioni che ovviamente preoccupano sia il Papa che anche noi. Però noi usiamo la speranza, nonostante un po' il tempo difficile, complesso e complicato. Anche stamattina è una bella mattinata, adesso stiamo parlando di sinodo, però stamattina la relazione del nostro cadinare Don Matteo Zuppi ci ha aperto, come devo dire, varchi, orizzonti. Soprattutto vorrei fermarmi su due questioni importanti, la questione della povertà, per cui pongo due grandi domande di senso. Rispetto alle disuguaglianze, alle povertà, all'impoverimento, le due domande sono quale modello di sviluppo, quale economia? Spesso Papa Francesco ci parla di un'economia che uccide. Ecco, c'è un progetto economico, molto spesso, una visione economica che uccide, che genera scarti, che genera sempre più impoverimenti. Noi dobbiamo invece attivare i processi di economia civile, di comunione, dove la ricchezza va distribuita, ridistribuita, dove a tutti vanno date le stesse possibilità. Anzi, soprattutto, come diceva Lorenzo Milani, non si possono fare parti uguali fra diseguali. Un'attenzione maggiore va dato soprattutto alle persone scartate, rifiutate, alle persone che fanno fatica a mettere insieme la colazione con la cena. E poi la grande questione è culturale. C'erano sempre due rischi, quando si parla di cultura, oggi, in Italia e in Europa, ma non solo. Il rischio dell'affasia, cioè noi non diciamo nulla, o il rischio dell'omologazione, cioè ci adeguiamo e quindi ci mondanizziamo. Anche qui Paolo VI, San Paolo VI, diceva delle cose meravigliose. Spesso Papa Francesco si dice di recuperare un po' il Magistero di San Paolo VI, il quale diceva c'è una rottura fra fede e vita, no? Per cui dobbiamo mediare culturamente la nostra fede. E anche qui quale cultura? Non la cultura dell'adeguarci, ma una cultura che marchi anche una differenza. Una cultura che, nonostante tutto, faccia capire che è possibile uscire molto spesso da quella palude, da quell'impantanamento in cui noi ci troviamo. E qui mi piace citare il grande, grande venerabile Don Tenobello, alla cui scuola molti di noi ci siamo formati. Che Papa cita, spesso. Che spesso, non può non citarlo perché c'erano molte convergenze fra il Magistero di Papa Francesco e il Magistero che fu del grande Don Tenobello. Ecco, diceva Don Tenobello, viviamo il tempo notturno, viviamo la notte, bene, o siamo l'aurora. Questo è il tempo della profezia, il tempo del coraggio, insieme, sottolineo, insieme, in maniera sinodale, possiamo farcela. Grazie, Monsignor Savino, grazie davvero. Dal Vaticano all'Aline allo studio. Grazie, ed ora la cronaca con lo sciame sismico ai campi flegrei. 150 scosse, una di magnitudo 4.4, che è stata la più forte da mezzo secolo. danneggiati alcuni palazzi e panico nella notte. Davide Murgia. Eccolo il momento della scossa. Le telecamere riprendono il terremoto in diretta a Pozzuoli, ne pressi di un passaggio a livello, durante lo sciame sismico che ieri ha interessato i comuni limitrofi alla solfatare e alla città di Napoli. Momente di panico e di paura tra la folla che scappa via di casa. Dalla seconda scossa abbiamo incominciato a chiamare 118, 112. Sono mesi ormai che viviamo questa condizione di paura e soprattutto in questa zona, il Viale Cappuccini, come hai potuto inquadrare, ci hanno chiusi dal 6 dicembre con questi lavori. Uno sciame sismico che sta interessando i campi flegrei da alcune settimane, oltre 150 le scosse registrate ieri, ma quella più forte si è verificata alle 20.10 ed è stata di magnitudo 4.4 a una profondità di 3 chilometri, la più forte da 40 anni. Centinaia le segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, ma per fortuna non c'è stato nessun danno alle persone. Alcuni edifici sono stati evacuati, tra cui il carcere di Pozzuono. In tanti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontano dagli edifici oppure nelle due piccoli tendopoli allestite dalla protezione civile. Poco sonno comunque per tutti. All'alba e a causa di un repentino abbassamento della temperatura, in tanti, sfilando la paura, hanno deciso di far rientro a casa. È un momento particolare per la nostra comunità. Più uniti siamo, più possiamo veramente uscirne fuori da questo periodo. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, i parametri geochimici non mostrano variazioni significative rispetto agli andamenti degli ultimi mesi. Non può essere però escluso che si possano verificare altri eventi sismici. Oggi scuole chiusi a Pozzuoli, Bacoli, Quarto e in alcune municipalità di Napoli. E l'Iran è per cinque giorni in lotto per la morte del presidente Raisi, deceduto assieme al ministro degli esteri, Abdullahian, sull'elicottero precipitato nel nord-ovest del paese. L'interim va al vicepresidente Mokber. Entro 50 giorni le elezioni, come ci racconta Marco Burini. Se la vedrà direttamente con Allah il misericordioso, il giusto. Ebrahim Raisi non comparirà mai davanti a un tribunale internazionale per i crimini di cui si è macchiato, le migliaia di oppositori mandati al patibolo, la rivolta popolare innescata dalla fine di Masha Amini soffocata nel sangue. La resistenza iraniana e i gruppi per i diritti umani non si uniscono certo al cordoglio globale per la morte del presidente iraniano, schiantatosi l'altro ieri con un elicottero insieme ad altri notabili del regime di Teheran, che stamattina a Tabriz ha celebrato la prima cerimonia funebre per lui e le altre vittime dell'incidente, tra cui il ministro degli esteri, Abdullahian. Le salme saranno poi trasferite nella città santa di Qom, roccaforte del clero uscita, e poi a Teheran, dove domani proseguirà il rito funebre. Stamani al corteo c'erano migliaia di persone, ma sono milioni gli iraniani che soffrono per la spietatezza degli Ayatollah, il cui capo, la guida suprema Khamenei, anziano e malato, adesso deve decidere chi gli farà da secondo come presidente della Repubblica. Forse Mohamed Mokber, il vice di Raisi, che ne ha preso temporaneamente l'incarico, o meglio suo figlio, Moshtaba Khamenei, così che il potere resti un affare di famiglia. Crimini contro l'umanità. La corte penale dell'AIA chiede l'arresto di Netanyahu e dei leader di Hamas per l'offensiva a Gaza e per l'attacco del 7 ottobre, l'ira di Israele e della Casa Bianca. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra. In attesa che il procuratore dell'AIA formalizzi la richiesta e quindi che i tre giudici decidano se convalidare o no questa richiesta di questo mandato d'arresto per crimini di guerra, continuano appunto la levata di scudi qui in Israele perché questa accusa viene definita scandalosa e antisemita non solo dal premier Netanyahu ma anche dalla maggioranza del leader dei politici dell'opposizione israeliana. Il presidente Biden è stato decisamente netto nel rigettare questa equivalenza tra Israele e Hamas così come lo ha fatto ieri sera anche il nostro ministro degli esteri italiani. Più distingue ci sono le posizioni di Francia e di Germania e anche Pechino interviene e sottolinea la necessità di una obiettività da parte della corte dell'AIA per mettere fine alla punizione collettiva dei palestinesi. La linea da Gerusalemme può tornare a voi. Grazie a Gaza. Sono state consegnate 569 tonnellate di aiuti. questo attraverso il molo temporaneo costruito dagli Stati Uniti mentre l'Unione Europea denuncia dal 7 ottobre scorso sono stati colpiti a Gaza 31 ospedali su 36. Massimiliano Cocchi. Camion carichi di aiuti continuano a sbarcare sul molo provvisorio che l'esercito americano ha costruito davanti alle coste di Gaza City. Quasi 600 tonnellate di cibo, farmaci e attrezzature mediche che vengono ammassate a terra prima di essere distribuite. È il corridoio umanitario che serve ad aggirare la chiusura da parte di Israele dei valichi di Rafa e di Kerem Shalom, chiusi ormai da due settimane. Quegli aiuti serviranno ad alleviare in parte le sofferenze della popolazione civile, costretta a fare i conti da una parte con la fame, dall'altra con le bombe. Nella notte quattro persone sono morte per un raid aereo che ha colpito un'abitazione nel quartiere di Sabra, alla periferia sud di Gaza City. Dunque l'azione militare di Israele prosegue, anche se, stando a quanto riporta il Washington Post, l'esercito avrebbe deciso di accantonare i piani per una grande offensiva a Rafa. Le pressioni della Casa Bianca avrebbero infatti convinto i generali israeliani a procedere con operazioni mirate e non su larga scala, che in una zona dove si trovano ancora un milione di sfollati avrebbe costi altissimi in vite umane. E proprio con un'azione mirata nel sud del Libano è stato ucciso un comandante di Hezbollah, mentre a Genin, in Cisgiordania, sette palestinesi sono stati uccisi in quella che Israele ha definito un'operazione antiterrorismo tra le vittime, un medico, un insegnante ed un alunno. Un nuovo caso di femminicidio. Alla Spezia, un operaio idile tunisino di 50 anni ha ucciso la moglie prima di suicidarsi con un coltello. L'uomo sarebbe stato denunciato in passato dalla moglie per maltrattamenti. Caterina Dalloli. Era stato allontanato dalla famiglia per ripetute violenze e maltrattamenti con un provvedimento specifico, ma per l'ennesima volta questo non è bastato a fermare l'assassino. Un operaio 44enne originario della Tunisia, Ihem Benfattoum, ha ucciso la moglie Saida Muda a coltellate e poi si è suicidato con la stessa arma. È successo in una palazzina a Ricco del Golfo, nello Spezzino. Sul posto adesso si trovano i carabinieri che stanno ricostruendo l'accaduto e il medico legale. I due figli della coppia, un maschio e una femmina, entrambi adolescenti, non erano in casa al momento del femminicidio. Come hanno ricostruito gli inquirenti, gli episodi di maltrattamenti contestati all'operaio erano tutti riconducibili a litigi tra i genitori sull'educazione e sullo stile di vita della figlia ritenuto troppo occidentale dal padre. Io temo che questa libertà e anche questo contesto sociale nostro che è un contesto fortunato in generale abbia prodotto in lei una maggior consapevolezza, una maggior forza e che lui fosse quello che non voleva. Secondo quanto si sa, fino ad ora infatti l'operaio era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti nei confronti suoi e della figlia il 17 aprile di quest'anno, denuncia che aveva fatto scattare il divieto di avvicinamento personale e al domicilio. Cinema con la 77esima edizione del Festival di Cannes è il giorno di Paolo Sorrentino e dell'omaggio di Christophe Honoré al mito di Marcello Mastroianni e non solo, come ci racconta Fabio Falzone. All'indomani della Palmadora lo studio Ghibli che è stata consegnata al figlio di Ayao Miyazaki in canto alla Croisette, alla Kenzende Realisateur The Falling Sky, un docufilm che racconta la tragedia del popolo Yanomami che rischia di scomparire. Il cielo è lo stesso, ci racconta uno dei registi Enrico Rocha per noi e per i protagonisti di questa storia. Vedere loro continua l'altra regista, Gabriella Carneiro, permette di vedere noi. E poi conclude lo sciamano Davi, portavoce del popolo Yanomami che in passato ha incontrato Papa Francesco. Anche a lui ci racconta o ha voluto raccontare la tragedia del nostro popolo. Il nostro è stato davvero un incontro di anime. Ma naturalmente oggi i riflettori sono puntati a Cannes sul film italiano in concorso parteno per i Paolo Sorrentino e a lui fanno gli auguri in maniera molto ironica i protagonisti di un altro film presentato in anteprima a Cannes, l'abbaglio di Roberto Andò. È un festival che ci ama, tanti auguri a Sorrentino, al lavoro di Favino nella giuria, che è un lavoro molto impegnativo. Noi ti fiamo sempre gli italiani, non c'è dubbio, Sorrentino speriamo. Sorrentino ha vinto. Già si sa. Sorrentino ha vinto e ha vinto anche Favino. Favino ha vinto come miglior giurato. È tutto, vi lascio a terza pagina, cura di Saverio Simonelli, TG2000 torna alle 18.25, ma prima con l'edizione Flash alle 14.55. Grazie del vostro tempo e buona giornata. Arrivederci. A Torino si è parlato anche di traduzione, un'attività schiettamente umana, nonostante la pervasività dell'intelligenza artificiale e di mille altri artifici digitali. Siamo cinque traduttori, traduttrici, amici, che ci piace pensare a quello che facciamo e ci piace soprattutto pensare al lato umano. Quindi ognuno di noi ha scritto un pezzo su che cosa significa fare esperienza di traduzione, che è qualcosa che ti succede nel cervello, nel corpo anche, oltre che nella voce, e quindi forse abbiamo ancora delle cose da dire noi umani in proposito. Un grande filosofo e epistemologo come Paul Ricoeur diceva che è quasi un atto di pietà, no, la traduzione? Forse di pietas. Sì, nel senso dell'accoglienza proprio, ma non solo di accogliere noi un testo, ma anche di farci accogliere, perché poi non si pensa mai al fatto che comunque traduttrici e traduttori hanno un io che sta lì in mezzo, che va accettato pure quello, perché è lui che cerca di capirci qualcosa per poi ridarlo agli altri. Bisogna essere tutti molto umili e non avere regole fisse, secondo noi. Qui a Torino c'è sempre stata una manifestazione l'autore invisibile. È diventato un pochino più visibile il traduttore in questi anni? Vediamo, ci sono, come tutti sappiamo, ogni conquista è sempre provvisoria. È vero che se ne parla un po' di più. I primi autori invisibili erano dietro un paravento ed eravamo in venti, io avevo i capelli colorati e la barba rossa e adesso c'è una sala da 150 persone e questo ci fa molto piacere. Ma i giovani devono mantenere alta la fierezza proprio di un lavoro imprescindibile e bellissimo. Tradurre significa anche riattualizzare figure importanti del nostro passato, ad esempio come William Morris, poeta, romanziere, designer, imprenditore, politico, insomma rappresentante poliedrico dell'Inghilterra vittoriana. William Morris rappresenta in toto l'uomo vittoriano, un uomo che era interessato alla letteratura, alle arti visive, all'arredamento e però anche alla politica. Infatti viene spesso accusato Morris di essere uno scrittore escapista, cioè di uno scrittore che quando scrive i suoi poemi o i suoi romanzi fa fantasy, è stato lui il creatore del fantasy, volesse fuggire dalla realtà. Invece quello che va capito della letteratura fantastica è che i veri scrittori del fantastico non fuggono mai dalla realtà, hanno sempre ben presente la realtà e quando parlano di un medioevo fantastico, un medioevo immaginato da loro, in verità stanno parlando dei problemi dell'epoca vittoriana. E quindi Morris va letto proprio in questa chiave, perché lui sapeva esattamente quello che accadeva nella Londra degli anni 50, 60, 70, ovvero la Londra che si stava trasformando. In opere come La Difesa di Ginevra e La Terra Cava, riproposte da Etera Edizioni, si avverte chiaramente questa aspirazione a ricostituire nell'uomo e nel lettore il senso della riconquista della bellezza. Vedeva questa distruzione della bellezza cittadina e anche nella campagna e quindi il suo ricreare questi paesaggi medievali era un negare la bruttezza dei giorni suoi per dire è possibile un'altra bellezza. Non mi stancho mai di dire che l'umanità è veramente quello che rende grande anche certa letteratura del fantastico, come Tolkien ovviamente. Grazie a tutti.